Allora Giuseppe questo è l'ingresso della Tito Scalo Guarda la tua macchina l'antenna si è inclinata un po' che è successo? Giuseppe allora qua siamo alla fiera Alla fiera del radiomodoro di Tito Scalo provincia di Potenza Siamo venuti direttamente da Bari Ah direttamente da Bari In Tito Scalo Buongiorno buongiorno Siamo arrivati ringraziando il signore Sani No quelli buoni salutiamo quelli buoni Quelli brutti li salutiamo dopo Li lasciamo proprio in disparte Ok 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 ok